Buona la prima dello Zauri 2.0. All'Adriatico il Pescara batte seppur con sofferenza il fanalino di coda Grosseto per 2-1 tornando a casperare nel terzo posto dopo il K.O. del Cesena. Successo palpitante per Sorrentino e compagni che rischiano per due volte allo scadere riuscendo alla fine a conquistare tre punti comunque importanti per classifica e morale. Il neo allenatore Biancazzurro schiera la sua squadra con il 4-3-3. In difesa si rivede Drudi a centrocampo Torna Pompetti in attacco spazio al trio Clemenza, Ferrari, Dursi, Assenti, Bemushai, Rauti e Ilianes, Chiarella e Di Gennaro. I toscani di Agenore Maurizzi ex tecnico del Teramo giocano con il 3-5-2. Nelle ventose caldo pomeriggio dell'Adriatico dirige Madonia di Palermo. All'ottavo con Zappella a terra l'arbitro lascia proseguire con Capanni che con un missile dai 25 metri va a colpire il palo della porta abruzzese. Il difensore del Pescara infortunato non ce la fa per un problema alla spalla ed è costretto a lasciare il campo a Cancellotti. Al quarto d'ora Dursi fedelissimo di Uteri in contropiede servito da Ferrari se ne va sulla sinistra e dopo una sgroppata di 40 metri fulmina Barosi per l'1-0 abruzzese con una conclusione chirurgica che non lascia scampo all'estremo mare in mano. Gara sbloccata dall'Elfino è sempre comunque divertente con le due formazioni che attaccano senza tanti tatticismi. Al venticinquesimo illusione del gol sul tiro dei 20 metri di Luca Clemenza con la palla che finisce però sull'esterno della rete. Attacca la squadra di Zauri al cospetto degli ospiti spesso sbilanciati in avanti che trovano però al ventottesimo la rete del pareggio con Bruzzi che su cross dalla sinistra in area non sbaglia mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole Sorrentino. Tutto da rifare così per il Pescara che al 34esimo rischia di subire il raddoppio ospite con Gorelli che incorna in area sugli sviluppi di un angolo mandando il pallone di un soffio a lato. Meglio gli ospiti ora che continuano ad attaccare prendendo però il gol al quarantesimo del Pescara con Dursi che ricambia il favore dell'1-0 servendo a Ferrari la palla per il 2-1. Pescara di nuovo in vantaggio e sedicesima rete stagionale per il bomber abruzzese che festeggia l'ennesima prodezza con il Pescara che torna così negli spogliatoi sul 2-1. Nella ripresa subito Grosseto in avanti anche se al tredicesimo Dursi manca di un nulla il 3-1 e la doppietta personale. Partita sempre viva con al diciottesimo il neentrato Arras che chiama Sorrentino alla deviazione in corner. Attaccano i biancorossi e il Pescara soffre con Zauri che dopo Diambo manda sul terreno di gioco anche Cernigoi e Delemonache. Con la partita che resta aperta e con Pompetti che al trentaquattresimo chiama dalla distanza alla respinta difettosa il portiere del Grosseto. Si arriva così nei minuti finali con Frascatore che al quarantatresimo salva sulla linea di testa prima del palo clamoroso al quarantasiesimo di Nocciolini che grazie a il Pescara che poi a sua volta a tempo scaduto e precisamente al quarantanovesimo con Cernigoi fallisce il gol del 3-1. Il Delfino torna così alla vittoria a cinque giorni dalla gara del Melani di Pistoia dove i biancazzurri affronteranno un'altra pericolante del campionato. La Pistoiese costretta a fare il risultato pieno dopo il pareggio beffa di Gubbio.